...i giocati in questa quarta corsa del San Paolo. Si va alla via con il numero 3 Rosa dei Venti, veloce, con l'errore di raggio dei luci. Rosa dei Venti al comando, all'esterno c'è Rosellina che affianca il numero 3 di Rosa dei Venti. Rosellina allunga, cerca di prendere il comando e ci riesce. Su Rosa dei Venti, terza in corda Roxy Vaking, mentre all'esterno è rimasto Raffaello LL. I primi 400 metri di gara in 27.6 per Rosellina che senza ferri è scattata velocissima, non è stata mai così veloce in carriera. Adesso è battistrada mentre avanza Raffaello LL che è partito bene dalla seconda fila. Dopo i primi 600 metri di gara, veloci, in 43.2, cerca di passare. Ed è il nuovo battistrada. Così Raffaello LL su Rosellina, il numero 3 di Rosa dei Venti davanti a Roxy Vaking che precede Rolli 1000. 800 veloci nel 57.9. Raffaello LL ha speso ma è alla comando e partiva dal numero 11. Lunga fila indiana perché Raffaello LL continua a fare velocità. Chilometro infatti in 1.13.2, Raffaello LL che va come il vento. Adesso sembra cedere un po' in terza posizione a Rosa dei Venti, mentre Rosellina è bene lì seconda. Quando si attacca all'ultima curva con Raffaello al comando, un parzano in 14.8. Rosellina nonostante questo si affaccia su Raffaello LL che sulle piegate va un po' guidato. Anche Rosellina deve essere un po' guidata, mentre fanno fatica a inserirsi gli altri per il ritmo veloce. Raffaello LL al comando, Rosellina all'esterno che attacca, Rosellina che va su Raffaello. Raffaello un po' in difficoltà, Rosellina arriva, Rosellina e Raffaello in lotta. Rosellina che sta passando ed è passata su Raffaello LL, mentre per il terzo il numero 6 di Ronda degli Ulivi. La vittoria per Rosellina presentata sferrata, una vittoria con un piglio davvero di cavalla buona. Questa Rosellina che parte forte, sfila al comando, molla Raffaello LL che fa andatura e sul palo passa di una lunghezza abbondante. Quota di 12.03, 1.13.9 il tempo al chilometro. Per il secondo posto ottima la prestazione anche di Raffaello LL che trova solo un avversario più forte, mentre per il terzo è il 6 di Ronda degli Ulivi. È tutto.